Si parte dal 1 ottobre tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 6 per la zona, traffico limitato nel centro storico di Andria. Cinque varchi saranno subito attivi, mentre altri due, è stato annunciato in conferenza stampa questa mattina, cioè quelli di via Mura San Francesco e via Carafa, arriveranno nei prossimi mesi, come da progetto già approvato dal Ministero. 800 nuclei familiari censiti e 250 auto che avranno la possibilità di transitare all'interno del centro storico andriese, dove saranno eliminati completamente i parcometri e dove sarà necessario lasciare completamente l'aria a partire proprio dalle venti. Migliore qualità della vita per i residenti è stato ribadito, ma anche migliore fruizione di uno dei centri storici più grandi e belli della Puglia. La ZTL servirà senz'altro ad alleggerire il lavoro delle agenti di Polizia Municipale a regolamentare il flusso pericolare in entrata e in uscita del centro storico in modo tale da dare anche con i sistemi di innovazione tecnologica una modernizzazione rispetto ad una situazione che chiaramente comporterà un ulteriore beneficio. È limitata temporalmente, io l'avrei voluta H24, lo dico espressamente perché sono convinto che le modifiche di vita quotidiana devono essere fatte radicalmente. Siamo andati incontro alle esigenze dei residenti e delle attività commerciali e su questo faremo una sperimentazione come orario, ma l'obiettivo è quello di fare l'H24 perché è giusto che il centro storico, che è uno dei più belli della regione Puglia, possa vivere in modo tranquillo, sereno e con una dinamicità anche commerciale, indipendentemente dal flusso dei veicoli. Durante la conferenza stampa di presentazione di questa mattina è stato ribadito come vi saranno 30 giorni di sperimentazione pratica della ZTL dal 1 novembre sarà effettiva al 100%, potranno esserci eventuali modifiche al regolamento, mentre si sta pensando di eliminare definitivamente i pass pensati inizialmente, poiché inutili in quanto il sistema riconosce direttamente le targhe delle vetture già censite dagli uffici preposti della Polizia Locale. I residenti o coloro i quali ne avranno diritto potranno accedere da qualsiasi varco attivo nel centro storico, mentre per farmacie, bed and breakfast ed altre attività vi saranno dei pass temporanei con comunicazione diretta allo sportello dedicato, diverse unità di Polizia Locale in più per strada, mentre tramite SMS nelle prossime ore saranno avvisati tutti i residenti censiti ed aventi diritto. Allo studio anche la possibilità di estendere già l'intera giornata della domenica la zona a traffico limitato per permettere una migliore fruizione degli spazi anche agli esercenti commerciali. Durante la fase di preesercizio o di fronte ad un cambio di residenza di un cittadino nel centro storico, ci sarà uno sportello apposito che abbiamo creato nella Polizia Locale dove si potranno aggiornare dati, si potranno aggiornare targhe, tutto quanto sarà necessario per mettere a regime il sistema. Stiamo pensando anche di allargare la ZTL anche alla domenica, perché il contesto della ZTL non va inquadrato solo come una cosa a sé stante da altre progettualità, perché la ZTL per esempio si inserisce anche nella nuova disciplina dei Deors, nel senso che quando sarà in funzione la ZTL, cioè la sera, gli esercizi potranno, in piazza Catuma, mettere tavolini e sedie. Quindi immaginiamo una piazza arredata, frequentata, con un look totalmente nuovo, che diventa funzionale all'entrata in funzione della ZTL.